La guerra in genere aumenta i problemi, lascia una striscia di sangue, radicalizza l'odio. Nella guerra esce fuori il peggio dell'umanità. Ecco allora, il ritrovarsi secondo la propria fede in colui che è il bene, ci aiuta a mettere la premessa del rispetto per gli altri. Dio quindi come colui che conosce l'uomo, che ci conosce e che ci obbliga ad andare alla radice della nostra umanità. Dove al di là delle culture, dove al di là delle fedi, c'è però un comune denominatore, l'uomo fatto di argilla, di creta. E quindi la fragilità umana, le contraddizioni umane, le sofferenze umane, i tentativi umani. Ecco, Dio diventa il garante dell'umanità. Ognuno di noi ha le sue convinzioni religiose e io ho apprezzato molto che la tenda avesse momenti differenti, è una forma di rispetto e di verità. Nello stesso tempo il Dio che sta sopra l'umanità diventa il garante dell'umanità stessa. Siamo oltretutto nell'anno anniversario di una data che per noi europei, ma anche a livello mondiale, ma direi per noi veneti, Porta ancora delle ferite brucianti. Cento anni fa iniziava quella che viene detta, conosciuta, imparata sui libri di storia come la prima guerra mondiale. C'è una frase di Papa Benedetto XV, Giacomo della Chiesa, che è stato Papa dal 14 al 22, 1914-1921, che chiama la guerra l'inutile strage. Grazie.